Musica Intitolare questa casa a Pierpaolo Pasolini non sarebbe stato giusto, perché la casa era del nonno di Pierpaolo, era dei Colussi. Due delle figlie, una era la Susanna e l'altra era l'Enrichetta, sposano Pasolini, che veniva da Bologna e prima da un'antica famiglia Ravennate, e Naldini, che veniva credo dall'Emilia Romagna. In questa abitazione ci sono proprio, noi li avremmo chiamati in friulano Cux, che vogliono dire quei mariti che vanno a casa delle spose. Ironizzavo su questo Nico, proprio in questa casa, suddivisa proprio, ognuno aveva la sua sala da pranzo, o il tinello si poteva chiamare, le camere da letto, con un minimo di privacy, ma anche molta vita in comune. Qui siamo a casa Colussi. Colussi era il cognome della mamma, ed è la casa dove Pierpaolo veniva sia durante le sue vacanze estive, quindi da bimbo, e poi anche più grande, per dopo fermarsi a Casarsa, agli anni dal 42 al 50, quando con la mamma ed il fratello arrivano a Casarsa per fuggire alla guerra, perché ormai Bologna, dove vivevano, era già sotto difficoltà legate appunto al momento bellico. Quindi Pierpaolo ha il suo rapporto con il Friuli e con Casarsa sin da piccolo, fa anche un anno alle scuole elementari qui a Casarsa, per poi farne un altro a Sacile, e poi ritornare appunto durante l'estate, quando già più grande, girava anche per la campagna friulana, innamorato dei colori, innamorato della semplicità del Friuli. Ed è proprio in Friuli che inizia sia a dipingere che a scrivere, a scrivere le sue prime sperimentazioni proprio in friulano, in lingua friulana. La lingua friulana per Pierpaolo era un canale di immediatezza, un canale, vogliamo dire, anche di freschezza, la stessa freschezza che poi ritroviamo nel mazzolino di Dolcetta, che è lo stemma dell'Accademiuta di Lenga Friulana. L'Accademiuta possiamo definirlo come un cenacolo letterario, nasce come un gruppo di amici votati alla cultura, alla poesia, piuttosto che all'arte in generale, gruppo di amici che circondano Pierpaolo, desiderosi proprio di apprendere e di creare assieme a lui quella che poi sarà anche per tutti loro manifestazione artistica, poesia, piuttosto che fotografia, piuttosto che, così, pittura. Nasce a Versutta, dove Pierpaolo e la mamma si devono rifugiare e scappare anche da questa casa di Casarsa a causa del pericolo dei bombardamenti. Poi da Versutta si trasferirà in un'ala qui di Casa Colussi. Questa foto che voi vedete alle mie spalle è significativa del rapporto che c'è tra due cugini, uno Pierpaolo Pasolini e l'altro Domenico, detto Nico Naldini. è intimamente legata alla loro vita. La prima persona, in fondo, che Nico conosce è Pasolini. Chi riconoscerà il corpo di Pierpaolo Lamorgue a Roma sarà Nico. È un legame di una forza e di rimandi che sono veramente molto intensi. Nico ha sempre riconosciuto, ma non c'era bisogno di adoperare questo termine, la grandezza di Pierpaolo. Cosa intendo? Non riesco a trovare un altro verbo. Ma se noi vediamo le cose che Nico ha scritto su Pierpaolo, comprendiamo quel senso di onesta riverenza, quel senso di omaggio che aveva per questo grande intellettuale. Lui lo conosceva dalle prime esperienze dell'Accademia Utah. sapeva come è stato duro il momento in cui va a Roma. Lui lo accompagna a prendere il treno assieme a Susanna e lui. Diceva che sembrava che scapassero quasi due fidanzatini. È la vita dura che facevano per il primo periodo a Roma. Ecco, nelle biografie lui è talmente puntuale, talmente documentato, talmente vero che è veramente il monumento più bello che ci poteva lasciare. Il monumento come memento. Naldini è quello che più di altri ha fatto della scansione dei fatti, ha fatto dei momenti, ha fatto della vita di Pierpaolo Pasolini proprio una cifra della lettura. Non si può quasi leggere Pierpaolo se non si legge la biografia, una vita di Pierpaolo Pasolini. Non si possono affrontare i meridiani se non si legge la cronologia che ha fatto lui. Mi è parso giusto che lui fosse il protagonista quasi di un film dove si parla di Pierpaolo. Un po' come un paese di primule temporali, un titolo che è tutto un programma. In un futuro aprile è un titolo che è tutto un programma. Lo hanno intervistato a Treviso, nella sua casetta. Lì lui è mancato nel settembre del 2020 e una troupe ben organizzata gli ha invaso la casa ed è uscito una cosa di una dolcezza, di una dolcezza unica, una dolcezza unica. Una delle più belle testimonianze proprio su questi due che qua li troviamo in una fotografia assieme e che dopo, ormai adesso, li rivediamo uniti idealmente in questo straordinario lavoro cinematografico.